Ciao a tutti, da Vinifo e Andrea, per la terza volta riproviamo a fare questo videochicchio E' troppo, non è un paio, 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 è un paio Stiamo passeggiando la vecchia 15G, sono 19.03, siamo nel mio studio, stiamo giochicchiando un po' con Cubase Ecco, ovviamente stiamo poppeggiando molto molto po', stiamo fuori da un caldo della Madonna Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sperando di continuare serenamente a lavorare su questo videochicchio e su questo videochicchio, questa bomba Ciao! Dai! Buona mensica! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questo è il terzo tentativo, ora faccio stop e vediamo cosa uscita! Ciao ciao! Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti.